Una notizia in attesa che ha destato stupore per il comune di Pescara. Il tema è sempre quello della balneabilità del mare, ma questa volta i dati forniti dall'Arta non provengono da quelle che sono considerate le aree nevralgiche della riviera. Si tratta infatti del lato nord fino ad oggi fuori dai punti interessati dai divieti. Nella giornata di ieri sono venuti fuori i giustati delle analisi svolte lunedì, perché ricordo sempre che occorrono almeno due giorni perché i batteri in cultura hanno bisogno di tempi per essere letti. I risultati di queste analisi mostrano da un lato questioni molto positive su via Balilla e via Galilei, dove i valori sono nella norma. Quello che ha colpito, perché non era mai successo in credo 50 anni, è che in un punto di prelievo a nord, proprio nella zona antistandarte, la rotonda della riviera nord, ci sono dei valori sballati. Che cosa abbiamo fatto? Noi, consapevoli che lì vicino c'è un fosso che ha pro dal mare, cioè Fosso Mazzocca, abbiamo ispezionato il corso del fosso. Il fosso è secco e quindi non abbiamo motivi di ritenere che da lì vi siano delle perdite. Certamente, diciamo, svolgeremo analisi ancora più approfondite. Sappiamo tuttavia che già nella giornata di ieri sono state svolte analisi suppletive di cui i risultati sono attesi per venerdì e vediamo se tutto questo è uno scherzo della natura, ovvero se nasconde qualcos'altro. Certamente è una questione che ci ha sorpreso, però continua la nostra lotta alla ricerca delle cause dell'inquinamento rispetto a un litorale che oggi presenta un solo punto insolito di vieti di balneazione e dovremo continuare a lavorare in questa direzione.